Un 66enne residente ad Ancri ha perso la vita dopo una dialisi effettuata in un centro di Santa Maria la Carità per la morte del paziente di origini albanesi. La procura di Nocera Inferiore, come riporta in apertura di pagina il quotidiano La Città, oggi in edicola, ha avviato un'inchiesta a seguito della denuncia presentata dai familiari della vittima, che vogliono vederci chiaro sulle cause del decesso del proprio congiunto. Un medico sarebbe indagato con l'accusa di omicidio colposo. In quella struttura, infatti, il paziente già affetto da diabete, bronchite e polmonite, aveva ricevuto trattamenti di dialisi, ma un farmaco, secondo i familiari, sarebbe stato fatale e non avrebbe dovuto assumerlo. L'uomo non sarebbe stato seguito clinicamente con le dovute attenzioni. Da qui i dubbi e la rabbia dei familiari.